C'erano prima loro o c'era prima lei? Io non lo so. Io ho deciso subito però perché adesso che lo succede vorrei finire preparare Nutella, se vuole avere più ricetta, la lascio. Lei è troppo sentita. Una, ok, cinque. Ciao. Se mi dici al volo che vuoi gelato, te lo faccio subito. Gelato, cosa ti metto? Un po' non una coppa. La coppietta piccola ti faccio vedere. Ti faccio vedere, ti faccio vedere. Adesso ti facciamo aspettare. Voilà, sono tre. Dedicazione. Voilà. Non è YouTube. No, non, vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.